E' la seconda giornata e c'è l'esordio casalingo della Coccinella sul campo, seconda giornata del campionato provinciale di Serie D, il girone di Roma, la Coccinella affronta questa sera la SD Atletico San Loren per far vedere il suo tasso tecnico, parte in questo istante il confronto, ferma subito la palla di Lorenzo, se ne va poi si defila, prova a mettere anche una palla in mezzo si distende Mauri Gallia, Aiello capisce tutto, interrompe l'azione, riparte da sola, la caloppata verso Di Lorenzo che ci prova, Mauri Gallia, pallone fermato da Bozzetto in maniera esemplare poi ci prova Aiello, adesso tocca anche il suo primo pallone, Maglione, poi lo rimette in gioco per Mastro Francesco, prova Di Lorenzo, smanaccia Mauri Gallia, non riesce a colpire Aiello che poi va a recuperare il pallone, prova adesso la soluzione, ci dovrebbe essere anche una deviazione, Mastro Francesco, apre a sinistra per Aiello che prova c'è la deviazione da parte di San Filippo, ruzza con la testa di Lorenzo presso Aiello, poi Mauri Gallia gli toglie la possibilità per la battuta a re, recuperato il pallone da Bernacchia Strambini, Di Lorenzo, se ne va, si accentra, prova la soluzione ferma il pallone, Mastro Francesco, Di Lorenzo il tiro, la ribattuta di Mauri Gallia ancora c'è una buona occasione, il diagonale, Aiello, Mauri Gallia, pronta per la ribattuta in avanti, c'è Nita, si gira e prova la conclusione che finisce sopra la traversa di Lorenzo, subito si ripresenta in avanti, prova la soluzione in diagonale, passeggia si libera poi di due giocatrici, Aiello, prova lo spazio, arriva il gol di Giulia Aiello e si sblocca il match, arriva il fischio e parte Aiello, il tiro, c'è la deviazione c'è Aiello, Strambini, poi la possibilità per Aiello, Mauri Gallia, gli dice ancora di no, Aiello, subito con Di Lorenzo, ottimo il servizio ancora per Aiello, di nuovo Di Lorenzo, il raddoppio della coccinella, parta Aiello in questo istante, il tiro, il gol di Giulia Aiello, Aiello, ancora, si accentra, ancora Giulia Aiello, per il tris personale Maglione, Casalati, e poi Maglione in due tempi, Aiello, prova adesso la soluzione bassa per Di Lorenzo, e c'è il gol, ha spedito in rete, Masto Francesco, poi si libera dall'avversaria, prova la soluzione, palla alta, sopra la traversa, Di Lorenzo, se ne va da sola, poi il servizio per Ruzza, che manda il pallone tra le braccia di Mauri Gallia, Mauri Gallia, con le mani, in avanti, e arriva il triplice fischio finale, la coccinella batte Atletico San Lorenzo per 5 a 0.